Ho avuto tre palloni e leggero. Se lo tiravo via io è il campionato di seguito, non ti ammazzare. Ma ci stiamo cercando di tempo che non mi ha venuto. È un attore finito. È un finiciato perché ci ha rontori. Ha vinto praticamente. Penso ha vinto un secondo. In San Filippo D'ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.